Salve a tutti ragazzi da Pierluigi nel canale PierDarkNight91 e benvenuti nella puntata numero 107 su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro Forest Green Rovers nella puntata scorsa ci siamo lasciati con un'incognita vendere Timothy Weha per continuare a fare calciomercato? per continuare il calciomercato adesso? o continuare il calciomercato di riparazione a gennaio e cercare di acquistare parametri zero? lo scopriremo in questa puntata come già detto l'Arsenal nella scorsa puntata ci ha offerto 46 milioni per Timothy Weha che abbiamo continuato a testare ma non è un giocatore che va bene negli schemi di gioco del nostro Forest Green Rovers adesso se devo proprio cedere Timothy Weha devono darmi il minimo 69-70 milioni ok siamo qui in sede con Emery l'allenatore dell'Arsenal allora andiamo a fare una controfferta per cercare di ricevere almeno 70 milioni per Timothy Weha dobbiamo cercare di fare una controfferta altissima esempio 82 milioni e vediamo cosa ci dice controfferta da 58 milioni controfferta ancora 72 milioni 67 67 milioni da parte di Emery facciamo 70? facciamo 70? non mi chiuderà la porta in faccia? capisco che non volete privarvi tanto facilmente di Weha sono disposti a spendere 70 milioni venduto a 70 milioni che vendita che eccessione adesso bisogna aspettare la risposta di Timothy Weha se accetterà l'Arsenal e poi cercare di acquistare un nuovo giocatore sempre se avremo tempo perché mancano 9 ore al termine del calciomercato ok abbiamo venduto Timothy Weha per 70 milioni signori che plus valenza abbiamo fatto la società ci ha messo a disposizione 64 milioni e 500 il Bristol City paga la clausola recissoria per Rawson 1 milione e 750 ma Rawson difficilmente accetterà questa offerta nooo se ne è andato Rawson se ne è andato Rawson accettato ce l'ho messo a disposizione 1 milione e 300 adesso Rigampool deve passare come difensore quarto difensore e Taylor Ross lo devo spostare sì è un casino il giocatore che ho sempre voluto lì al centrocampo è Yuri Tielemans immaginate il centrocampo così con Foden Tielemans Emre Can Emre Can è davvero molto utile da mettere come centrocampista centrale destro e aiutare in difesa con Tielemans che è molto fisico ma attenzione perché Tielemans sì è un 89 di overhaul è un centrocampista che sa fare anche il centrocampista difensivo ha 26 anni ma attenzione al prezzo vale 70 milioni ovvero i fondi che abbiamo attualmente ma il Manchester luciderà solo con una cifra compresa dai 96 e 500 96 milioni e 500 e 149 milioni e 900 è praticamente impossibile portarlo a casa sicuramente non accetteranno mai perché ho 68 milioni e poi non riuscirei a pagare lo stipendio del giocatore vi ricordo che devo rinnovare ancora il contratto ad Harper e a Ovi e Giaria quindi cerchiamo uno scambio gli vado a dare Tyler Rose visto che comunque posso mettere Rigampool come difensore e lì poi mettere Tielemans quindi al centro centrocampista centrale puro Tielemans che aiuterà anche in difesa diamo Tyler Rose non gli interessa non sono interessati a Tyler Rose offerta per il cartellino e gli vado a piazzare 68 milioni che andranno ovviamente a rifiutare sicuro ci chiedono 134 milioni ho detto tutto ti aggiungo una clausola per la rivendita del 25% più ovviamente 68 milioni perché poi devo pagare anche lo stipendio e quindi è praticamente impossibile niente ci chiude la porta in faccia Murigno non so se acquistare adesso un nuovo giocatore o aspettare a gennaio e sì è meglio aspettare perché come centrocampista voglio assolutamente Tielemans come attaccante vi ricordo Haaland della Juventus ma la Juve lo ha dato in prestito quindi non posso fare un'offerta sarà comunque una sessione utile per gennaio per cercare parametri zero e nel frattempo vi faccio vedere che il Manchester United ha venduto tantissimo ma non ha acquistato tantissimo ha acquistato tre giocatori ha speso 82 milioni e ha avuto un profitto di 212 milioni quindi ne ha venduti più di 5 e ne ha acquistati solo tre nooo si conclude il calciomercato così con un infortunio in allenamento per Emre Can 6 settimane di stop nonostante la chiusura il calciomercato continua e lo Swan si ci offre 7 milioni per Stefano Rinaldi ma non l'avevo ceduto e no è vero aveva rifiutato il Braga aveva rifiutato il Braga avevo accettato 7 milioni dal Braga e ha rifiutato riceviamo 7 milioni dallo Swansea signori accetto e vediamo se accetta questo club offerta per Girl Winchester 880 mila se mi da un milione te lo porti a casa offerta per il cartellino secondo me Girl Winchester rifiuterà questo club perché non è un club di altissimi livelli anche se anche lui non è che sia di altissimo livello 67 di overall facciamo una controfferta di 1 milione 2 e 50 accettano e adesso bisogna vedere cosa dice Girl Winchester e siamo arrivati nella quinta giornata di campionato affronteremo il Crystal Palace attenzione perché vi ricordo che siamo in prima posizione insieme a Liverpool abbiamo perso Harper per molti mesi abbiamo perso anche Emre Can scenderemo in campo così con Leighton Tyler Brown Ferguson De Ligt Alexander Arnold al centrocampo Foden Rigampool e Winchester Leco Simpson e Pulisic in attacco vediamo insieme la formazione del Crystal Palace 4 difensori giocano con un centrocampo a 4 e quindi 2 attaccanti probabilmente si Morata Morata al Crystal Palace stiamo molto attenti è uno dei miei attaccanti preferiti il match è iniziato Connor molto bene Foden Foden la tiene fa scattare Pulisic ecco il passaggio bellissimo tocco a Pulisic che la mette in mezzo dall'altra parte colpo di testa assegnato Jonathan Leco 1-0 forest green subito in vantaggio 6 minuti e 45 rivediamo grandissimo passaggio di Foden ottimo assist di Pulisic dopo che si è sistemato il pallone con un bel colpo di testa un bel tocchettino di testa pallone in mezzo sul secondo palo stacco di Jonathan Leco che si fa trovare al posto giusto bello il passaggio Foden Foden ha spazio Foden ancora innesca Jonathan Leco Foden incredibile attenzione Jonathan Leco si accentra si infila Jonathan finta corner neanche corner peccato ancora una rimessa laterale partita fatta dal forest green ecco il tocco Tyler Brown sta cercando di crescere sta cercando di migliorare non vuole assolutamente deludere il mister attenzione Jonathan Leco subito all'indietro Winchester Jonathan Leco finta di Jonathan Leco Jonathan Leco è la parata del portiere quasi doppietta dobbiamo assolutamente raddoppiare pallone in mezzo niente colpo di testa signori ogni volta facciamo la partita ma non raddoppiamo mai Ferguson pallone alto scivolata colpo di testa buttare fuori di De Ligt attenzione attenzione tiro pallone alto adesso il colpo di testa di Ferguson abbiamo trovato una quadra lì in difesa con Ferguson e De Ligt perché Ferguson è più veloce ma affiancato De Ligt ad Adarabio io avevamo davvero troppi problemi nei contropiedi occhio a Foden tiene la sfera Foden prova il tiro a giro da lì ma è pretenzioso attenzione a Rigampull ruba il pallone Rigampull l'ha schiacciata malissimo due minuti di recupero signori incredibile facciamo la partita ma non raddoppiamo mai e quindi il Crystal Palace è ancora in gioco attenzione nel secondo tempo vai scatta 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 il passaggio Rigampull attenzione Rigampull a tu per tu con il portiere se l'è divorato ah Jonathan Leco finta si infila eccolo qui Jonathan Leco numero Jonathan Jonathan Leco palo incredibile non arriva il 2 a 0 esce Rigampull entra Tyler Rose ancora Crystal Palace guarda adesso che arriva il gol del pareggio mamma mia che si è divorato Morata Jonathan se ne va Jonathan la tiene Jonathan molto bene Jonathan si arriva dall'altra parte pallone in mezzo attenzione colpo di testa pallone alto e quindi rinvio è il momento entra CR7 esce Connor Simpson Cristiano Ronaldo il tocco sulla fascia per Jonathan Leco Jonathan Leco vede liberissimo Cristiano fuori la pareggeremo decide Jonathan Leco al settimo minuto Cristiano Ronaldo si è divorato un gol incredibile bellissimo il passaggio attenzione che parte Cristiano Ronaldo invece la tocchiamo a Foden Foden la stoppa male ma non c'era nessun compagno da servire smarcato bellissimo l'intervento qui da parte di Ferguson ma riparte ancora Crystal Palace Foden va a chiudere sbaglia il passaggio riparte Crystal Palace attenzione signori perché la beffa è dietro l'angolo De Ligt pressa temporeggia Mutigno ancora sulla fascia Alexander Arnold e poi questo cross sbagliato diventa un tiro ma c'è Leighton esce Pulisic entra Chong CR7 la tiene la scambia con Leco ancora un passaggio al centro dove c'è Taylor Rose attenzione a Taylor Rose si accentra anche Winchester in passaggio Cristiano Ronaldo ancora lui incredibile quest'anno segna più dello scorso anno 2 a 0 e Crystal Palace battuto ogni volta dobbiamo soffrire per 80 85 minuti o prendiamo il gol del pareggio o riusciamo a raddoppiare nei minuti finali ed è già il suo quarto gol in Premier League Cristiano Ronaldo non invecchia mai Morata Morata se ne va non pervenuto Morata pallone in mezzo attenzione attenti Crystal Palace che cerca il gol del 2 a 1 finta salta Tyler Brown Alexander Arnold la spizza palla che sta per uscire fuori ci arriva Chong finisce qui signori ci portiamo a casa un'altra partita difficilissima adesso non c'è più il Manchester United ma adesso c'è anche il Liverpool che continua a vincere per differenza reti attualmente si trova in prima posizione ma siamo con gli stessi punti festeggiamo signori festeggiamo abbiamo venduto Rinaldi quindi Rinaldi andrà via a gennaio e adesso primo match della fase gironi di Champions League contro il Porto attenzione a non commettere passi falsi c'è un problema non abbiamo recuperato al 100% i nostri centrocampisti migliori sono infortunati ovvero Harper ed Emre Can ovviamente c'è anche Foden come centrocampista migliore e quindi scenderemo in campo così con Leighton Walker Peters Ferguson De Ligt Alexander Arnold Foden Tyler Ross e Winchester in attacco Chong Ronaldo e Pulisic Ok ragazzi risentiamo le note della Champions League dopo tanto tempo siamo usciti davvero abbiamo fatto comunque un ottimo percorso nella storia del Forest Green una sola volta in Champions League e siamo usciti contro i Wolfsburg in una partita davvero molto importante se non ricordo male erano i quarti di finale sì quarti di finale di Champions League adesso vediamo la formazione della squadra avversaria attenzione perché ci giocheremo la seconda posizione proprio contro di loro non voglio assolutamente sottovalutare nessuno e quindi secondo me il Bayern Monaco può competere per la prima posizione in questo girone e noi lottare per la seconda contro il Porto anche perché comunque il Bayern Monaco ha molti giocatori forti anche noi però noi abbiamo solo i titolari forti poi le riserve come potete vedere qui già abbiamo perso alcuni pezzi non possiamo giocare con Emre Can non abbiamo Harper e siamo costretti a giocare con Winchester e Tyler Rosso Rigampool questa è la formazione del Porto 4-4-2 non mi sembra una squadra fortissima ma attenzione a non sottovalutare ancora un tocco Walker Peters ancora un passaggio attenzione Winchester ha un po' di spazio Winchester primo tiro della partita al dodicesimo e tira Kerr Winchester Winchester concentrazione siamo arrivati con un centrocampo disagiato ecco perché volevo Tielemans assolutamente attenzione tocco di Foden dall'altra parte per Pulisic la difesa si fa trovare impreparata pallone e mezzo deviazione e corner Foden cercherà il colpo di testa di Alexander Arnold o di a te gol incredibile Tyler Rose mi sa che ha segnato proprio lui Tyler Rose 1-0 Forest Green avevo bisogno di Tielemans a centrocampo vedete appena manca Emre Can abbiamo problemi comunque contro il Porto siamo in vantaggio ok facciamo girare sempre il pallone sempre 1-0 per noi ecco Alexander bello il tocco attenzione a Pulisic non c'è fuorigioco si continua ecco Winchester che la va a toccare CR7 che ha un po' di spazio prova il tiro palla che colpisce leggermente il palo lo sfiora rivediamo se ha preso il palo secondo me ha sfiorato il palo vediamo un po' eh sì l'ha sfiorato ok Ronaldo Foden allunga questo pallone per Taichong Chong può andare Chong quasi si portava il pallone fuori riesce ad infilarsi nella red rigore attenzione una scivolata pericolosissima poi il tocco a Foden il tiro di Foden sulle mani del portiere sempre Alexander punta l'uomo Alexander slalumeggia il tocco a Pulisic bello il tocco ancora c'è Chong il tiro la incrocia malissimo con il sinistro va bene dai Alexander bravissimo Alexander mi fa commettere un errore sul cross rinvio di Leighton finisce il primo tempo non avevo dubbi sul risultato abbiamo fatto la partita ma solo 1-0 siamo troppo spreconi ok inizia il secondo tempo e speriamo di riuscire a fare un gol su azione non su corner stiamo attenti stiamo molto attenti scivolata a vuoto Corona che tiene la sfera pallone e mezzo De Ligt benissimo monumentale attenzione a questo tocco 1-2 scambiano velocemente Porto che cerca il gol del pareggio ci mettiamo il piede con Foden ancora Corona palla che non esce più incredibile parata di Sonny Leighton incredibile palla che rimane attaccata sui piedi del Porto adesso colpo di testa palla che rimbalza nell'area di rigore la spazza Curl Winchester colpo di testa per cercare la sponda su CR7 da parte di Chong non riuscita e adesso Winchester mette ordine dai Ronaldo bene bellissimo passaggio per Pulisic occhio a Pulisic che si infila a tu per tu con il portiere il tocco a Chong bravissimo Pulisic ha pensato più al raddoppio che non a sbagliare questo gol 2-0 Forest Green signori il primo match nella fase a Gironi è fatta è quasi è quasi fatta siamo ancora al sessantesimo quasi al sessantesimo esce Winchester entra Rhys Brown colpo di testa buono Foden molto bene CR7 numero è il tocco a Chong bravissimo che numero di CR7 si infila Chong che cerca di ricambiare il favore lo fa e lo fa ricambia il favore signori ricambia il favore Chong a Pulisic 3-0 signori vero un'azione molto Pulisic molto pulita signori basta è il momento di Ovie meritato riposo per Foden tocco ad Ovie Jaria parte Ovie Jaria scatta Ovie Jaria il passaggio a Chong Chong numero ancora Chong la tiene la alza molto bene attenzione per Rhys Brown tocco di testa per Pulisic che colpisce il palo incredibile colpo di testa ancora assurdo Chong trovate il colpo di testa non ce la fa l'ha fatto Ronaldo attenzione a Ovie Jaria ultima azione pochi secondi alla fine con Chong che scatta sulla fascia attenzione a Chong tiene il pallone non perde tempo la mette in mezzo Rhys Brown di testa Rhys Brown sulle mani del portiere signori il primo match nella fase a Gironi è un gran risultato 3-0 preoccupante il risultato del Bayern Monaco che pareggia 2-2 siamo già in prima posizione da soli ma attenzione perché proprio qui i risultati quei pareggi possono incredibilmente buttarti fuori visto che quest'oggi abbiamo fatto un bel po' di calciomercato chiudiamo qui questa puntata nella prossima 3 partite contro il Tottenham attenzione match in Carabao Cup contro il Manchester City e poi ci sarà l'Everton ragazzi se questo appuntamento vi è piaciuto lasciate un bel like condividete commentate so che molti di voi mi scriveranno Pierpotevi non vendere Timo Tiguea perché arriva a 90 di overall ma se il giocatore può arrivare anche a 95 di overall e non so usarlo secondo me è meglio cederlo un bacione un abbraccione ci vediamo nella prossima puntata ciao a tutti Grazie per la visione!